Intervista a Miori in campo Garofalo, il portiere dei Blue Tiger, avete pareggiato 4 a 4 contro gli Orange Team nonostante comunque state in vantaggio di due gol, mi sembra, state sui 4 a 2, vi sei fatti recuperare gli ultimi minuti c'è stato un po' di confusione in campo ma hai fatto delle bellissime parole, vogliamo parlare un po' dell'incontro? È stato un bel incontro però la potevamo vincere tranquillamente, un po' di ingenuità all'ultimo purtroppo poi come si è visto in campo, troppo nervosismo infatti abbiamo pareggiato una brutta partita, però loro sono seguiti, noi siamo primi, abbiamo fatto un bel pareggio ci saranno provvedimenti sicuramente per questa partita ma va bene, comunque un punto andava benissimo un punto va bene così senti, vuoi fare qualche ringraziamento particolare? voglio ringraziare la squadra perché ha mantenuto fino, io ho messo il mio, poi l'ho messo loro ringrazio tutti complimenti, bravi show carofalo